Sala consigliare del Comune di Città di Castello, c'è da ratificare, da rinnovare l'accordo tra Junior Tiferno e Città di Castello Calcio, Giacomo Palla, Domenico Duranti, Giacomo Palla presidente della Junior Tiferno, Domenico Duranti presidente del settore giovanile della Città di Castello. Facciamo il punto, Palla. Sì, grazie Michele. Oggi per noi è un giorno importante perché è un sogno che si viene a coronare dopo 25 anni di attività della Junior Tiferno ed è oggi importante la nostra presenza qui in Sala consigliare a testimoniare il nuovo accordo veritiero che ci legherà a Città di Castello Calcio per il settore giovanile. Accordo della durata? Tre anni. È un accordo 2015-2018 con la speranza che sia lungo e duraturo. Domenico, tre anni. Di solito nello sport, soprattutto nel calcio, i cicli durano tre anni. È un periodo estremamente lungo. Ci sarà da lavorare insieme e soprattutto ci sarà da trovare la quadra. Sappiamo che l'avete già trovata. Sì, di fatto i rapporti che ci legano oramai non credo che non mettano assolutamente in discussione questa collaborazione. Per quanto mi riguarda è un percorso oramai obbligato. Perché è obbligato e volutamente obbligato, di fatto. Perché poi alla fine dobbiamo in questa città cercare di far squadra. Perché se non facciamo squadra, al di là dell'aspetto sportivo, fare proprio squadra come gruppi dirigenti, come persone che hanno intenzione di impegnarsi per qualcosa, per il bene di un settore della città, in sostanza. Per cui abbiamo iniziato questo percorso lo scorso anno. Non è un rinnovo. È di fatto un qualcosa in più rispetto a quello che si era già lo scorso anno. Credo che già dalle prime riunioni si sia vista la volontà di tutti e due di fare un unico corpo. Questo è possibile. Lo dobbiamo alla pazienza per quanto riguarda Di Giacomo. Perché ha avuto una pazienza nel sopportarmi, nel sopportare alcune questioni che di fatto erano per qualcuno spinose. Non tanto per noi. Perché poi, ripeto, quando c'è la volontà di portare avanti insieme le cose, questa volontà viene proprio manifestata. Possiamo dire che Giacomo Palla ti ha conosciuto nel tempo? Perché sopportare Domenico Durante me la concedi la battuta? Assolutamente sì. Con Giacomo siamo amici da tempo, al di là della fede calcestica, comune. Diciamo che c'è un rapporto di stima e di amicizia che è talmente alto che ci può permettere anche di discutere qualche volta su alcune questioni che però nasce e finisce là e, ripeto, siamo due che abbiamo intenzione di andare avanti per una strada unica. Discutere significa anche costruire. Al di là della fede calcistica, ricordiamolo, l'accordo non è con l'Inter ma è con la Juventus Academy. Secondo me, se non si discute, sembra che vada tutto bene e i cocci si contano alla fine. È giusto. Infatti, secondo noi, quello che è importante, se c'è da discutere, è discutere assieme e soprattutto che siano discussioni proficue per il raggiungimento di un unico obiettivo, che è quello del miglioramento. Ringrazio Domenico delle belle parole espresse, ci ha visto molte volte assieme sui spalti del San Siro e purtroppo molte volte perdenti, comunque non fa niente. Noi abbiamo la corazza dura e andiamo avanti. Effettivamente, le facce nei selfie non erano assolutamente di felicità. Domenico, te la faccio questa domanda perché è un tema ricorrente in città. I giovani sono tanti, iniziano ad essere circa 400, credo più o meno, queste strutture perché poi alla fine contano anche gli impianti. Tu sei un politico navigato, sai di che cosa sto parlando, che possibilità ci saranno? Già quest'anno so con certezza che l'amministrazione comunale ha investito tantissimo sulle strutture sportive per cui va fatto, credo, un plauso all'amministrazione comunale, chi si ha lavorato sopra per cercare di potenziare la fruibilità. Già l'impianto della Junior da ottobre, credo, sarà disponibile per 24 ore su 24. Quindi l'illuminazione? Perlomeno così ci risulta in sostanza, per cui se non sarà ottobre, sarà novembre, non è questo il problema. Il problema è il fatto, il dato di fatto è che comunque l'investimento importante c'è stato sull'impiantistica sportiva e di fatto potrà permettere a tutti coloro che vorranno fare attività sportive di poter avere per 24 ore al giorno la fruibilità degli impianti. Questo è, credo, uno dei passi importanti che ci possa permettere. Le prime chiacchierate che abbiamo fatto erano proprio sulla fruibilità stessa degli impianti perché vogliamo già da subito dare la certezza di chi gioca e dove e quando, in sostanza, chi si allena dove e quando, per cui col fatto che c'è stato questo grosso investimento da parte dell'amministrazione comunale crediamo che ci siano tutti i presupposti già per avere un'impiantistica sportiva all'altezza. Dopodiché, spetterà a noi a questo punto, la responsabilità è tutta in capo ai vari gruppi dirigenti e alle varie società di poter cercare di portare avanti progetti seri, credibili, che da un lato diano la giusta visibilità ai ragazzi che meritano di avere visibilità, curino l'aspetto sociale perché è importante anche trattenere i ragazzi il più possibile e diano per noi tutte quelle opportunità per cui, ripeto, la responsabilità è nostra. Gli strumenti ci sono, le volontà ci sono, non credo che a questo punto ci possano essere più, non ci sono più alibi. Ermanno Patriarchi, vicepresidente della Junior di Ferno, Stefano Caldei, presidente del Città di Castello Calcio Ermanno, inizio dal presidente. Allora, ci eravamo fermati circa un anno fa, l'obiettivo era quello di inserire all'interno della Rosa del Città di Castello 8-9 ragazzi provenienti dal settore giovanile. L'anno scorso lo hai fatto, io credo che con l'accordo triennale con la Junior finalmente torneremo a vedere un 11 sempre più tifernate. Ma questo è senza dubbio l'auspicio, bisogna essere sinceri, quest'anno forse non ce la faremo in toto perché il lavoro del settore giovanile paga a lunga durata, non è che l'anno dopo già possiamo vedere i frutti del lavoro fatto l'annata precedente. Perciò quest'anno usufruiremo, troveremo qualche fuoricuota qui vicino, Perugia, Arezzo, nelle società maggiori che ci circondano e speriamo che fin dal prossimo anno riusciremo a mantenere la categoria, questo ce lo spieghiamo tutti e mi auguro con tutto il cuore che non sia un campionato di sofferenza. Io ho sempre detto, ho sempre sostenuto che cercheremo di fare un campionato sereno che ci permetta, appunto, se abbiamo qualche ragazzo in prossimità, in procento di arrivare a far parte del gruppo della prima squadra, di poterlo farlo esordire e vedere uno, due, tre e quelli che saranno, di che panni vestiranno. E nella storia del Città di Castello ha dato molti atleti ai campionati professionistici, anche negli ultimi tempi. L'obiettivo è colorare sempre più di giovani di Città di Castello e dell'Interland a Valtiberino, la società bianco-rossa e magari rivedere un Federico Giunti capitano di un Perugia oppure esordire in nazionale. L'obiettivo è sempre quello, dare un giovane di Città di Castello ai palcoscenici professionistici. Sì, ai palcoscenici che contano. Sarà difficile, ma sicuramente se il Città di Castello ci è riuscito prima sarà in grado, piano piano, ripeto, di riuscirci anche negli anni che verranno. Vorrei sottolineare che l'accordo di quest'anno con la Junior è il proseguimento di quello che è stato fatto l'anno prima, però è un accordo ancora più consolidato perché permette in toto alla Junior Tiferno di gestire il nostro settore giovanile con il nome chiaramente del Città di Castello. E ricordiamolo, durerà tre anni, periodo estremamente lungo. Ermanno Patriarchi, vicepresidente, tu hai portato il nome della Junior in Valtiberina Toscana, si è riuscito a sdoganare il marchio Junior e lo hai fatto a Monterchi. Monterchi ha abbracciato, è giusto il termine, ha abbracciato il progetto, siete diventati un punto di riferimento. Sì, diciamo che è stata una delle prime affiliazioni con la Junior Tiferno che è stata fatta negli ultimi anni. Il progetto era quello appunto di portare questi ragazzi che per problematiche dovute ai numeri non riuscivano più a fare delle squadre, quindi con la Junior Tiferno siamo riusciti a continuare il nostro lavoro sia su Monterchi ma soprattutto facendo i ragazzi squadre uniche con la Junior. E questo piano piano poi è andato avanti con il Selci e non nego che stiamo parlando anche con altre società limitrofe. Monterchiese e Selci Nardi fanno parte del progetto. Effettivamente so che vi state allargando anche ad altre società che si occupano di settore giovanile. Ermano, in due battute, l'obiettivo qual è? L'obiettivo credo che sia quello importante di creare nell'Alta Valle del Tevere, Umbra o Toscana che sia un polo importante per un settore giovanile forte che possa poi sbucare appunto con l'accordo che abbiamo fatto con il Città di Castello in una squadra di riferimenti, in una prima squadra che tutti i bambini dovrebbero sognare di arrivare in prima squadra e questa squadra ovviamente non è altro che il Città di Castello.